SILVIA Sono Silvia e sono qui per condurti in un viaggio unico di consapevolezza e benessere con MindFeed. Allenati con me in un luogo panoramico in mezzo alla natura. Sarai immerso in attività fisiche e mentali progettate per risvegliare i tuoi temi e portarti in armonia con ciò che ti circonda. Sei appuntamenti dedicati a risvegliare i tuoi muscoli e ad allenare la mente attraverso la meditazione. Ti aspetto per un viaggio sensoriale e rigenerativo attraverso corpo e mente.